Grazie a tutti. Ascice e anche cocaina che arrivava a fiumi tra Priolo, Melilli e Siracusa. L'attività investigativa coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania ha avuto una svolta valendosi sia di metodi tradizionali che anche di supporti tecnici. Ha permesso ai carabinieri di mettere in evidenza l'esistenza di un'associazione da tempo operante nella provincia, in particolar modo nell'area Megarese, da cui l'operazione è appunto denominata Megara. Il gruppo, ben noto nell'ambiente dei consumatori e dei superfacenti, aveva trovato nel circondario Priolese, in alcune zone della città del capoluogo, i luoghi dove poter smerciare nell'arco dell'intera giornata Ascice, marijuana ma anche cocaina, dotandosi di una propria organizzazione caratterizzata dalla suddivisione dei compiti tra quelli che adesso sono indagati. Il suo delizio infatti operava su direttive dell'indagato Angelo Boscarino, individuato quale promotore dell'associazione, che era composta da Marco Tempra, Salvatore Rasizzi, Vincenzo Annino, Felice Coniglio e il Villa Sbundese Antonino Bozzone Montagno. Principali indicati dai carabinieri, i cui ruoli diversi erano comunque finalizzati al supporto del gruppo per tutte le esigenze contingenti, tra i quali l'approvvigionamento della droga, per lo più Ascice e marijuana, che poi veniva distribuita agli spacciatori in numerose dosi. Invece Fabio e Cristandesimone, che operavano esclusivamente a Priolo, trattavano anche superfacenti tipo cocaina, approvvigionando e anche avvalendosi di canali esterni alla provincia. Le indagini hanno consentito di appurare come i componenti del clan Desimone, possedessero o comunque avessero limitata disponibilità di armi da fuoco. In alcune circostanze gli appartenenti al gruppo cedevano ad altri sodali le armi in loro possesso e in altri casi le vendevano a chi si rivolgeva loro per tale necessità. Il carattere armato del sodalizio e dei componenti della famiglia Desimone è stato ulteriormente riscontrato a seguito del ferimento di Ignazio D'Alfonso, avvenuto nell'ottobre 2016 a Priolo, il quale è stato attinto da alcuni colpi di arma da fuoco per non aver onorato un debito di droga assunto con i Desimone, obbisodio quest'ultimo che ha fornito ulteriori spunti per l'avvio dell'attività investigativa. Nel medesimo contesto di gestione dell'attività di spaccio e nell'ambito componente della famiglia Desimone si è verificato l'altro omicidio avvenuto il 14 dicembre del 2016, quello di Alessio Boscarino avvenuto appunto a Priolo e per il quale si sta occupando la procura e in particolar modo il processo è in corso in corte d'assise. Nel corso dell'attività di indagine sviluppata dal nucleo investigativo, durata oltre un anno fino all'ottobre del 2017, sono stati sequestrati 4 kg di sostanza stupefacente tra marijuana, ascice e cocaina, mentre altre 4 persone sono indagate a piede libero. Dell'operazione abbiamo parlato con il comandante dei Carabinieri, il colonnello Luigi Grasso, che spiega come hanno agito i suoi uomini. Priolo, Melilli, Siracusa, insomma un triangolo importante per lo spaccio e il traffico di droga. È stata un'attività che ritengo molto importante perché ha consentito di individuare questo sodalizio criminale particolarmente attivo nell'area nord di Siracusa, Siracusa stessa e poi come si diceva in zona di Priolo e Melilli, dedito al traffico di sostanze stupefacenti e non solo stupefacenti ma anche di armi, dimostrando quindi una certa pericolosità e capacità anche operativa sul territorio. Controllo del territorio che avveniva anche attraverso gambizzazioni e uccisioni materiali? Sì, questa indagine ha dimostrato la capacità offensiva di questo gruppo e quindi la tempestività di intervento è stata assolutamente fondamentale. Una capacità che hanno dimostrato attraverso un omicidio, attraverso il ferimento di un'altra persona, fatti di sangue gravissimi, sempre all'origine un unico motivo, quello di partite di droga non pagate e il controllo del territorio. Rimaniamo in cronaca ma parliamo di un caso di truffa all'Inps, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza che ha notificato un avviso di 64 persone. Si parla di contributi per braccianti agricoli falsi. La Guardia di Finanza di Siracusa ha notificato un avviso di conclusione indagini nei confronti di due titolari di studi commerciali, di tre collaboratori, di 15 titolari di aziende agricole e di 44 falsi braccianti agricoli. L'ipotesi di reato contestata è 64 indagate di truffa ai danni dell'Inps in concorso. L'attività di indagine, coordinata dal procuratore capo Francesco Paolo Giordano e diretta dal sostituto procuratore Andrea Palmieri, avviata nel 2013 e conclusa nel 2017, è stata posta in estere dalla tenenza di noto con l'ausilio e la collaborazione degli ispettori dell'Inps. Le indagini hanno consentito di far emergere un collaudato e consolidato sodalizio criminale operante nei comuni di Rosolini e Pachino, dedito alla truffa ai danni dell'Istituto di Previdenza, che ha causato un danno complessivo di oltre 3 milioni e 120 mila euro. Le giornate lavorative mai effettuate e comunicate sono state quantificate dalle fiamme gialle in 94.726. L'importo è complessivamente rifiuto a un'indenità di malattia, maternità, disoccupazione, indebitamente percepite negli anni oggetto di indagini da tutti i consapevoli finti braccianti che hanno agito con il concorso e la compiacenza dei titolari delle aziende agricole e degli studi commerciali. E non ho quest'ultimi che comunicando la fittizia e instaurazione di rapporto di lavoro subordinato quale bracciante agricolo presso imprese, in alcuni casi inconsapevoli di tale operazione e in altri consapevoli, traevano in inganno l'Inps che erogava così la indennità ai soggetti non aventi diritto. L'attenzione degli investigatori si è focalizzato sugli aziende che mostrava una forza lavoro sproporzionata rispetto ai terreni posseduti e al fatturato. Emerso in alcuni casi che molti degli indagati, appartenenti alla cosiddetta comunità dei caminanti di noto, pur risultato formalmente a lavoro presso aziende agricole di Rosolini e Pachino, venivano controllati dalle forze di polizia del centro e del nord Italia. I falsi braccianti, che di fatto non avevano mai prestato alcuna giornata lavorativa, con questo illecito modus operandi, avevano anche costruito una posizione contributiva che in futuro avrebbe consentito loro di percepire la pensione. Adesso cambiamo argomento, parliamo di un asilo, un asilo comunale che chiude a causa di problemi anche riferiti al tetto. Insomma ci spiega tutto Fabiana in questo servizio. Asilo di Siracusa, Baby Smile, siamo in via Reggia Corte. Questa mattina un'ordinanza decide di chiudere l'asilo. Per quale motivo il consigliere comunale Salvo Castagnino? Decide di chiudere perché abbiamo avuto un crollo all'interno dell'istituto di una parte del tetto. Questo è un disservizio a tutti gli effetti, o meglio due disservizi, che abbiamo, o meglio, affornito questa amministrazione ai cittadini. Il primo proprio è un disservizio dell'infrastruttura. Il secondo è un disservizio perché le mamme e i papà oggi non hanno potuto usufruire del servizio di asilo. È un asilo comunale, quindi c'è una retta che viene pagata dai genitori ogni mese? Sicuramente, indipendentemente da quella che sia la retta, ci sono le tasse che tutti i cittadini paghiamo, anche chi non ha i bambini, per far sì che le strutture del comune funzionino e siano soggette a una manutenzione ordinaria e straordinaria che può essere fatta in emergenza. A questa emergenza oggi non si può far fronte. Proveranno a smentirmi, ma andate a vedere il bilancio del comune attuale e vedrete che tutto il fondo di riserva del sindaco, meglio la cassa che deve essere utilizzata in situazioni di emergenza come questa e che è in disponibilità diretta del sindaco, è stata utilizzata, ma non per emergenze, per altre cose. Ricordo per esempio a dicembre è stata utilizzata per il Logi Park la cassa di emergenza e questo non era tanto un'emergenza per la nostra città, questa sarebbe un'emergenza. Emergenza a cui, sono convinto, non bisognerebbe arrivare perché qualora fosse stata sottoposta a una manutenzione ordinaria, la struttura è straordinaria nell'eventualità in cui se ne fosse accorta l'amministrazione non saremmo arrivati al crollo. Eccoci giunti alla seconda parte del telegiornale. Torniamo a parlare del sistema Siracusa perché l'avvocato Giuseppe Gallafiore ha reso un lungo interrogatorio davanti al procuratore capo di Messina, Maurizio De Lucia e ai tre sostituti che hanno coordinato le indagini e quindi l'inchiesta proprio sul sistema Siracusa. Sentiamo. Si è sottoposto per oltre cinque ore ad un interrogatorio davanti al procuratore capo di Messina, Maurizio De Luca e ai tre sostituti che hanno coordinato le indagini relative al cosiddetto sistema Siracusa delegate alla Guardia di Finanza. L'avvocato Giuseppe Gallafiore che deve rispondere dei reati di associazione per delinquere, corruzione, falsità ideologica, concussione per affermare gli interessi propri e di alcuni clienti da egli e dagli altri indagati considerati di particolar rilievo ha parlato a lungo con i magistrati. Un interrogatorio fiume che potrebbe ancora continuare nei prossimi giorni sul quale però gli inquirenti si sono trincerati dietro al più stretto riservo. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande poste dai pubblici ministeri su tutte le vicende oggetto della contestazione. Per il momento non posso spingermi oltre. Soltanto a conclusione di questa fase e secondo la valutazione che farà la procura di Messina conosceremo tra qualche giorno le determinazioni del GIP Maria Vermiglio. È stato Calafiore, come si ricorderà all'inizio della scorsa settimana, a chiedere ed ottenere di essere interrogato dai PM che stanno coordinando l'inchiesta sui dossier e i depistaggi. La decisione dell'avvocato è giunta a distanza di tre mesi dalla sua Costituzione avvenuta il 10 febbraio e dopo che l'avvocato Piero Amara si è sottoposto a interrogatorio davanti ai magistrati delle procure di Messina, Milano e Roma che gli hanno consentito di ottenere dai due giudici per le indagini preliminari il beneficio degli arresti domiciliari. In precedenza era stato l'ex PM di Siracusa Giancarlo Longo ad aver beneficiato della meno afflittiva misura cautelare degli arresti domiciliari. Le ispezioni ministeriali ma anche alcune archiviazioni rendono la sezione fallimentare del tutto trasparente. Questo almeno l'intervento del Centro Studi di Diritto Fallimentare. Sentiamo. Il Centro Studi di Diritto Fallimentare interviene replicando anche alle dichiarazioni dell'avvocato Giuseppe Cavallaro in riferimento all'operato di alcuni professionisti, avvocati e dottori commercialisti oltre che magistrati che operano e hanno operato dal Tribunale di Siracusa e all'attività del Centro Studi stesso. In particolare il Presidente della Corte di Appello di Catania Alfio Scuto aveva escluso l'esistenza di irregolarità nell'ambito delle procedure fallimentari pendenti avanti al Tribunale di Siracusa rappresentando al Ministero della Giustizia, al CSM e alla Procura Generale che gli ha esposti l'avvocato Cavallaro appaiono strumentali al condizionamento dell'esercizio della giurisdizione. Di recente la sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa è stata sottoposta e ispezioni ministeriali che hanno escluso ogni e qualsiasi irregolarità nella gestione delle procedure, nel conferimento degli incarichi e nella condotta dei magistrati e dei professionisti che operano nella sezione. Sono stati archiviati intanto i procedimenti penali avviati sulla base degli esposti proposti da Cavallaro e della Clinica Villa Rizzo nei confronti dei curatori fallimentari e dei professionisti del Tribunale a Retuseo archiviati su richiesta della Procura di Siracusa per infondatezza e senza alcuna opposizione. Sono in corso invece di archiviazione anche i procedimenti penali avviati davanti alla Procura della Repubblica di Messina nei confronti magistrati, curatori fallimentari e professionisti del Tribunale a Retuseo anche in questo caso un'archiviazione su richiesta della stessa Procura messinese per infondatezza della notizia di reato. Oggi il 23 maggio si ricorda la strage di Capace avvenuta nel 1992 in cui morirono Falcone, il giudice Falcone, la moglie e i giovani della scorta. Siracusa ha ricordato questo momento, sentiamo come. Oggi il 23 maggio giornata importante per la legalità. 26 anni fa infatti Giovanni Falcone lasciava un grande esempio di lotta alla mafia. Per questo una manifestazione alla Scuola Superiore per ragionieri Alessandro Rizza per sensibilizzare i giovani sull'argomento. Presente in rappresentanza della legalità il magistrato Nicoletta Rusconi del Tribunale di Siracusa sezione penale. Oggi in realtà lo scopo dell'iniziativa è oltre a parlare in generale del tema della legalità quello secondo me di far passare il messaggio che la legalità è un aspetto che deve toccare la vita di tutti noi cioè non dobbiamo avere come riferimento, o meglio, dobbiamo avere come riferimento grandi magistrati come appunto è stato Falcone, come è stato Borsellino, con tanti nomi anche attuali come Nino Di Matteo o Nicola Gratteri, ma dobbiamo avere l'idea di essere noi stessi quelli che cambiano le cose nel piccolo quindi non necessariamente uomini straordinari come sono stati loro ma anche applicare la legalità nelle piccole cose di ogni giorno e questo che probabilmente tentiamo di far capire ai ragazzi di oggi perché sono loro che sono il futuro del nostro paese e se capiscono che veramente è dalle piccole cose, dei piccoli gesti di tutti i giorni che si può cambiare questa società questo sarebbe un risultato magnifico di questa giornata Occasione per consegnare dei premi ai ragazzi che sono stati coinvolti in un concorso a tema organizzato dal Centro Antiviolenza La Nereide Per sensibilizzare i ragazzi non soltanto alla non violenza ma anche alla legalità perché una volta che noi giriamo le scuole per tutto l'anno organizziamo anche un premio che loro si cimentano in vari lavori sempre per testimoniare la violenza, il bullismo e la legalità a questo punto arriva il momento per premiarli e quale migliore scelta, visto che il premio dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e anche la conclusione dell'anno scolastico il 23 maggio che si conclude con questo bellissimo evento alla presenza di autorità, forse dell'ordine e soprattutto premiare i ragazzi meritevoli Consegna dei premi ai ragazzi del Rizza che risposta hanno dato in merito a questo tema? Quello che è importante è questo, noi puntiamo proprio su questo di aiutare la cittadinanza a cambiare la cultura e a parlare in un linguaggio non violento e quindi portare avanti la cultura della non violenza e quale categoria è migliore che quella dei ragazzini perché proprio dove non ci sono filtri dove c'è la semplicità più pura può partire un messaggio così forte Siamo allo sport, parliamo di pallannuoto tutto pronto per la Final Six e come sapete si disputa nelle acque della piscina caldarella delle cittadine dello sport Ortigia, Ortigia che deve vedersela con il Savona e negli ottavi, sentiamo Sarà Banco BPM Sport Management contro Canottieri Napoli Ad aprire venerdì 25 maggio alle 18.30 la Final Six che alla Paolo Caldarella di Siracusa assegnerà lo scudetto 2018 Tutta l'attesa è rivolta al match delle 20 quando l'Ortigia di Stefano Piccardo scenderà in acqua per giocarsi l'accesso ai quarti di finale contro il Savona Una a tre giorni di spettacolo e di grande sport nella cittadella che fino a domenica 27 maggio sarà la capitale della pallannuoto italiana I bianco-verdi siracusani stanno preparando al meglio questo storico appuntamento finiti i quarti al termine della regular season Giacoppo e compagni ritrovano i bianco-rossi liguri Due pareggi negli incontri giocati durante la stagione all'andata in Sicilia finì 5-5 mentre a Savona fu un 9-9 giocato sul filo dell'equilibrio Alla piscina Paolo Caldarella ha atteso il pubblico delle grandi occasioni presenti i vertici della Federnuoto e tantissimi altreti plurimedagliati È tutto per quanto riguarda l'informazione grazie per averci servito alla prossima Arrivederci 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 Arrivederci